Colpo di scena per Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, la separazione inaspettata che non piace ai fan, cosa sta succedendo? La coppia composta da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia già deve affrontare la prima separazione, una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan dell'ex moglie di Paolo Bonolis e l'affascinante ballerino Cosa sta accadendo tra loro? Le ultime voci sono piuttosto chiare Tutti speravano in un lieto fine, sembrava che la Bruganelli avesse ritrovato la serenità al fianco del giovane ballerino dopo l'addio al marito Ma adesso gli impegni lavorativi, a quanto pare, li hanno costretti a separarsi Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle e Angelo Madonia Angelo Madonia è famoso per essere appunto un ballerino professionista di Ballando con le stelle e Sonia Bruganelli sarà una delle protagoniste della nuova edizione del talent di Meli Carlucci I fan della coppia, ma anche del programma di Rai 1, avevano sperato di vederli gareggiare in coppia, ma la decisione presa è un'altra La Bruganelli, infatti, non farà coppia con il suo compagno ma con un altro partner È ormai ufficiale che a lei è stato assegnato il ballerino Carlo Aloia e non il bel Madonia Era prevedibile che il programma decidesse di separarli, proprio in virtù della loro relazione Angelo Madonia, infatti, farà coppia con Federica Pellegrini Scoppiare la coppia potrebbe servire anche a creare dinamiche interessanti all'interno del programma La notizia che la Bruganelli non ballerà con il suo compagno nella vita ha comunque fatto dispiacere non poco i fan della coppia Non è detto che non ci saranno colpi di scena, magari con un ballo speciale tra i due in diretta televisiva Intanto le cose tra i due sembrano procedere a gonfivele.Se c'è stato un momento in cui la Bruganelli e Madonia hanno provato a tenere la relazione segreta, quest'estate sono di fatto usciti allo scoperto Paparazzati dal settimanale chi mentre camminavano per le vie dello shopping di Roma, non si sono nascosti, a dimostrazione che vogliono viversi la loro storia d'amore alla luce del sole Intanto Sonia continua a essere legatissima al suo ex marito Paolo Bonolis, con il quale ha tre figli Quest'estate i due ex hanno trascorso una parte delle vacanze assieme, facendo vedere ancora una volta quanto si hanno affiotati e come la loro separazione sia stata serena e senza alcuna battaglia .